La questione degli abusi sessuali e il dossier di prima grandezza nella Chiesa sarà al centro del summit convocato in Vaticano dal 21 al 24 febbraio tra il Papa e i presidenti di circa 130 conferenze episcopali. Già da qualche anno si rafforza la battaglia della Chiesa contro la pedofilia. Uno strumento è il Center for Child Protection della Pontificia Università Gregoriana che da tempo organizza corsi per formare esperti nell'ambito della prevenzione del contrasto degli abusi sessuali sui minori. Penso che abbiamo bisogno di agire, di prendere decisioni concrete che vengano attuate immediatamente, poco dopo il summit. Mi aspetto che ci siano cambiamenti alla legge, qualunque essi siano all'interno della Chiesa, ha detto il presidente del Centro per la Protezione dei Minori alla Gregoriana. Gli fa eco Martina Vintrova, giurista cieca specializzata di diritto canonico che ritiene importante riuscire a rinnovarsi come persone, diventare più consapevoli della sofferenza, essere cristiani migliori, umani migliori. Perché bisogna concentrarsi sulle sofferenze, le grandi sofferenze delle persone.